37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 Rimanente niente con andate in strada, ti pode vedere praticamente Perchè che ci lasciamo? 9, 19, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 15 Zhengdong, 16, 17, 19, 16, 16, 16!!! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 5, 6, 8, 9, 10 7, 10 7, 10 5, 8, 10 8, 10 8, 11 8, 10 9, 10 12 Grazie a tutti. 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 Un saluto alla nostra parlamentare, Giorgia Andreuzza. Ciao, Andrea. Ciao, Giorgia. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.